Ehi, ma lo sai che è disponibile il mio nuovo store online? www.xuder.it dove troverai un sacco di gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, facci un salto e soprattutto, codice creator, xuderone! Ma adesso, video! Io non commento, salutiamo il nostro snap o buono giornaliero. Andiamo a parlare con Joy? Vieni, Joy! Oh! Ma io non ho capito, no, piano, piano, aspetta un attimo. Ma, non ho capito, ma perché? No, aspetta un secondo, no, no, ma io non... Ma perché non ho potuto parlare con Joy? Mi ha distrutto con una nonchalance, direi, abbastanza, abbastanza scandalosa. Ah, ci sono le rupie. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Oh, et al pazzo! Eder, alleluia! Alleluia! Ero il pazzo! Porco il creator, xuderone! To! Alleluia! Il Cristo non era ovviamente, non era ovviamente... Cavolo. Nettuno! Eh, Nettuno. Nettuno! C***o, Nettuno, ma bisognava il mio brucio! Che succede? Brucio! Io sto bruciando! Chiudo tutto quanto che... Nettuno! Non porti via! Aspetti, come non porti via? Ok, bravo, ok. C'è la nuova modalità, ragazzi, che è uscita oggi, sono solo race. Vai! Merda, madonna! Cioè, c'è... Perfetta! Merda, virgola. La madonna ha ampanata. Cioè, non era... Non era tutto assieme, vorrei alzare... No, vorrei alzare le mani! Era... Merda! Sempre a mettere i puntini! Grande c***ata! Dio, povero! Alzati! Alzati! Alzati, Cristo! Alzati! C'ho un mirtillone in giro! Porca, porca, porca! Fragolone! Undici giù! La mentality, xudor, sempre allegro! Oh, cabbo! Non potevo farci... Non potevo farci molto! Non potevo farci molto! C'è un altro! Lol! Oh, c***o! Easy! C'era un bel posto che li facevano. Ho visto un sacco di gruppi. Un sacco di culi? Anche un sacco di culi. Niente, mi griffano. Così. Oh, ma tua madre è quella str... Oh, ma porca, Dio! C'è bisogno? Dico solo, ho 34 anni. Come... Dico solo, ho 34 anni. Che sta ingasellato come le bestie. Puttava che cosa sta facendo, Vincenzo. Anche io. Anche io. No, ma è uno. Prendete tutte le tuffe, adesso. Mi sa, avevo quel pompa, andiamo. Faccio lo, faccio lo, faccio. Devi andare... Oh, mi vogliono buttare giù, ma che c***o! Sono stupede, ma c'è uno che continua a grabbarmi! Sono... Oh, c***o! C***o! Quella tr... Puttana di tua madre! Rotta in c***o, lurida! Stru... Pagascia di me! Che c***o ti aveva salvato a fare? C***o, però lei mi si agita troppo. Mamma, papà, voi spendete ogni anno centinaia di euro per magliette che magari io sporco, si rompono e oppure si scoloriscono. Guarda questo sito, www.xuder.it, è il sito del mio streamer preferito, che vende prodotti made in Italy 100% certificati, in cotone e con le stampe indistruttibili. Mamma, se fai la lavatrice anche ad acqua calda oppure ad acqua fredda, non si scolorirà mai la maglietta. Papà, ti prometto che la metto anche al giorno del mio matrimonio. Cacciateli sti soldi! Compratemi la maglietta! Ma santo il... Passato... Passato... Allora... Vengo a prendere di nuovo. Ma.... Lol. Passato... Vengo a prendere di nuovo. Pasca ciliegie! Ah, una uva, pasca ciliegie! Oh mio Dio Qualcuno Climpy Oh mio Dio Oh mio Dio Che è successo? Guarda questo Ho sbagliato Let's go! Let's go! Easy! 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 Oh my god! Oh mio dio! Let's go! Let's go! Merda! ...singolo per i conti miei E mi sono incrociato con un player, una persona E ci siamo scontrati Ok, da questo scontro sono uscito miracolosamente il vincitore, non si sa come Però il tipo mi ha tirato due sberle Ok E quindi io lì Dopo aver l'ammazzata mi sono messo a curarmi Sì Ehm, però c'è quando mi stavo curando Sì Non mi era coperto da dietro Sì Puoi fare qualcosa di intelligente Per favore Fammi risentire Ti raccontavi un aneddoto? Fammi risentire quello del snipe Head shop snipe Head shop snipe Head shop snipe Adesso me lo spiegate Adesso me lo spiegate Ma 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 Shieldone Lo vuoi? Come vuoi Io ero sul lotto libero Che c***o sto facendo? Mi sa che le serve a lei adesso Ero full? Sì Ehm 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 Lascia un min***o sul serio Ehm 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 Sì